Oggi voglio parlare d'amore, sì, voglio parlare d'amore. Parlare d'amore? No, dai, no, basta, ma nessuno vuol sentire parlare d'amore, dai. Molti dicono che bisogna affidarsi al cuore, sentire il cuore, che il cuore non sbaglia mai. Il cuore è quello che sbaglia più di tutti perché parte con i sentimenti, non ha ragione. Io ogni volta che vado in India se dovessi dar retta al mio cuore tornerei in mutande, ma ancor meno. Quindi è ovvio che bisogna metterci dentro anche la ragione perché il cuore sbaglia, sbaglia più della ragione. Però quanto è bello che ci sia questo cuore perché a volte è meglio innamorarsi follemente e sbagliare piuttosto che non sentire niente e non sbagliare mai. Grazie a tutti.